Ciao a tutti, sono Giulia. Oggi sono qui a Vicenza nel nostro negozio Zoo Veneto, già da molti anni online, ma quest'anno con una recente novità che è il nuovo sito internet. Nel nostro negozio potete trovare tantissimi prodotti che rispondono alle esigenze della vostra passione. Dalla caccia al capanno al colombaccio, alla selezione e alla caccia agli acquatici. Nella parte dedicata al capanno potete trovare delle vasche portagabbie per agevolare il trasporto di vostri richiami, corridore, tunnel bresciane e capanni pratici e veloci da montare. Il nostro punto vendita è rivenditore autorizzato di Pianeta Colombaccio. Il punto forte del nostro negozio è la caccia agli acquatici, all'interno del quale potete trovare molti marchi come AvianX, GHG, Lucky Duck e Mojo. La novità di quest'anno è la linea femminile che potete trovare nel marchio Gabbion Limited. E' molto importante durante le nostre giornate di caccia indossare l'abbigliamento adatto che possa rispondere a tutte le nostre esigenze. Nel nostro negozio potete trovare una vasta gamma di prodotti del marchio Crispy. Nel nostro angolo, adibito per la caccia di selezione e il controllo al cinghiale, troviamo adescanti, basturatori e fototrappole. Ci trovate a Paldogno, in provincia di Vicenza e sul nostro nuovo sito www.zoveneto.it www.zoveneto.it